Oggi vi racconto la storia di un pilota che è stato un pilota davvero straordinariamente forte e competitivo nella sua epoca, ci ha lasciato naturalmente come successe con Severci, lasciò anche lui giovane. Quindi oggi vi racconto la storia di Elio De Angelis. Quindi bentornati a questo nuovo video ragazzi, al video della storia di Elio De Angelis, che quindi oggi vi racconto, ovviamente come sempre mandate tanti like, commentate, iscrivetevi, comunque partiamo quindi dall'inizio perciò. Elio De Angelis, che quindi è nato a Roma il 26 marzo del 1958, è stato definito nella sua storia principe della Formula 1 ed è stato anche un pianista miliardario tra l'altro, una famiglia che gli ha permesso, lo ha aiutato appunto ad arrivare dove appunto arrivò. Comunque lui cominciò con i kart, lui quando correva nei kart si trovò a correre alla pista d'oro di Roma, zona Tivoli, non so se magari qualcuno di voi ci può essere già stato negli anni passati. Una pista che però purtroppo ha chiuso, io ci sono stato perché correvo lì con i kart, con qualche persona della mia famiglia, quindi diciamo che ho potuto un po' vedere questa pista che oggi purtroppo è chiusa, quindi mi dispiace ovviamente parlarne in questo modo perché davvero era una bella pista, una pista davvero notevole, mi piaceva e purtroppo però è andata così. Comunque è appassionato, è stato appassionato di motori fin dall'infanzia Elio De Angelis che a 14 anni cominciò a guidare i kart, visti i brillanti risultati che conseguì, tra cui la vittoria del titolo europeo nel 1976, la famiglia quindi decise di fargli continuare la carriera da pilota. Quindi il padre, ricco costruttore e campione di motonautica, e quindi il padre gli regalò una Chevron con cui poté correre in Formula 3, però non ricevette più alcun finanziamento da parte dei genitori. Nel 1977 il pilota romano vinse il campionato italiano di categoria e l'anno seguente passò in Formula 2, in cui non ottenne grandi risultati e vinse però il Gran Premio di Monaco di Formula 3. Questo successo gli ha permesso, gli ha consentito quindi di ricevere l'interessamento da parte di varie scuderie, tra cui la Brabham e anche la Tyrrell. Proprio quest'ultima gli offrì un contratto per la stagione seguente, però improvvisamente Ken Tyrrell si tirò indietro. Il pilota quindi fece causa alla scuderia. La Ferrari si dimostrò interessata, ed Enzo Ferrari in particolare invitò il romano Maranello e al termine dell'incontro lo inserì nel programma Giovani offrendogli un posto in Minardi, proprio in Formula 2. E comunque questo incontro tanto famoso tra De Angelis e Ferrari si concluse successivamente con un nulla di fatto, vette bagliare altre ipotesi. Quindi arriviamo ad una nuova fase della sua vita, quindi grazie alla Shadow De Angelis riuscì a debuttare in Formula 1 nel 1979. Il contratto prevedeva che dovesse pagare 25.000 dollari ad ogni Gran Premio per potersi assicurare il posto di pilota, quindi si procurò da solo il denaro contattando vari sponsor e poter disputare tutta la stagione. Durante l'annata arrivò settimo due volte nel Gran Premio degli Stati Uniti d'America Est, dove conquistò un quarto posto e per le sue ottime prestazioni il padrone della Lotus, quindi Colin Chapman, alla fine dell'anno lo convocò per un provino. Nel termine di questo lui fu ufficialmente assunto dalla scuderia. Il pilota romano aveva un contratto di tre anni con la Shadow, il costruttore inglese dovette versare però una gravosa penale per liberarlo e il primo anno non gli versò alcuno stipendio, quindi. Arrivato alla Lotus nell'80 con un contratto da secondo pilota vi rimase per sei stagioni. Nel primo anno si mise in luce, proprio nella seconda gara di campionato in Brasile, arrivando alle spalle di Arnoux, e a 21 anni mancò di poco il record per il più giovane vincitore di tutti i tempi in un gran premio valido per il campionato di Formula 1. Nella prima parte del campionato non ci curano altre prestazioni così particolari, poiché la macchina appunto evidenzia problemi di trazione e telaio, e verso la fine della stagione il pilota romano riuscì a conquistare altri punti, chiudendo settimo in campionato piloti e battendo anche il compagno di squadra Mario Andretti. L'inizio quindi del 1981 vede la scuderia Lotus in evidente difficoltà, la FIA ha dichiarato illegale la Lotus 88, e David Thiem, proprietario della Essex, società di compravendita di petrolio greggio e principale sponsor della squadra, è stato arrestato. Quindi De Angelis ottiene comunque punti in due delle prime tre gare, però è costretto a saltare il gran premio di San Marino, che è stato boicottato dalla sua scuderia per protesta nei confronti della federazione contro la nonna missione della 88. Quindi con grande amarezza da parte di De Angelis, che dichiarò successivamente che, viste le condizioni del tracciato, anche con la vettura dell'anno precedente avrebbe potuto ottenere un buon risultato. A partire quindi dal gran premio di Monaco, ha potuto disporre della nuova vettura, la Lotus 87. Al successivo appuntamento mondiale, arriva quinto a meno di un secondo e mezzo dal vincitore. Nelle gare successive, quindi nelle gare seguenti, si mantiene sempre tra i primi senza riuscire mai a salire sul podio. A fine stagione quindi risulta ottavo con 14 punti, battendo il suo nuovo compagno di squadra, l'inglese Nigel Mansell. Durante la pausa invernale, circola la voce del suo passaggio all'Alfa Romeo, con cui ha effettivamente firmato un contratto, ma alla fine rimase alla Lotus e le penali da pagare altrimenti sarebbero state troppo elevate per la squadra italiana. Quindi è stato costretto a rimanere nella Lotus. Dopo che ha disputato la prima gara dell'82, con la vecchia Lotus 87 modificata, a partire dal gran premio del Brasile, De Angelis ha potuto disporre della nuova Lotus 91. E dopo aver conquistato vari punti nel corso della stagione, ottiene la sua prima vittoria in carriera al Gran Premio d'Austria, proprio all'Ostreich Ring. A 5 giri dalla fine quindi si ritrova in testa e ha un giro dal termine con oltre un secondo e mezzo di vantaggio su Kaker Osberg. Però per via di un errore, nel momento del cambio di marcia, il finlandese riesce a recuperare lo svantaggio e quindi, pensate un po', concludono la gara al photo finish, praticamente De Angelis vince il Gran Premio, ma per pochissimo, proprio per pochissimo. Infatti, in un'intervista lui ha dichiarato testuali parole «Ho mancato la marcia che mi è costato un secondo, è stato allora che Rosberg mi è venuto sotto, ho pensato che dovevo farcela a tutti i costi, l'ho bloccato in ogni modo e non poteva assolutamente passare». Eh, quindi erano altri Gran Premi, sicuramente ragazzi erano Gran Premi ben diversi. I due giunsero quindi appagliati al traguardo, e spazzati, distanziati proprio di 5 centesimi. Questa è stata anche l'ultima vittoria della Lotus, alla quale assiste proprio lo stesso Colin Chapman, che purtroppo è venuto a mancare nel dicembre di quello stesso anno. Dopo questo successo, Elio tiene un sesto posto in Svizzera, prima di chiudere il campionato, nono a 24 punti. Si arriva poi all'83, dove la Lotus vive un'annata di transizione, quindi dopo la morte di Chapman, il comando della scuderia viene assunto da Peter Whore, e a differenza del costruttore inglese, che considerava il pilota italiano come un figlio, De Angelis non ha mai avuto un buon rapporto con quest'ultimo arrivato. Il progetto della nuova vettura, la Lotus 93T, è partito molto in ritardo, lo stesso pilota ha definito più volte questa macchina è inguidabile. Il team inglese è passato quindi agli pneumatici Pirelli, e aveva concluso con la Renault un contratto di fornitura per motori turbo. La prima parte del campionato è stato un vero, un autentico calvario, quindi per il pilota romano, che arriva al traguardo una sola volta. Con l'arrivo del progettista Gerard Ducarouche, la situazione migliora, e in 5 settimane il francese mette a disposizione dei suoi piloti la nuova 94T, e dopo che ha ottenuto i primi punti a Monza, De Angelis conquista anche la sua prima pole, il Gran Premio d'Europa. In gara è coinvolto in un incidente ed è anche costretto al ritiro, chiude quindi la stagione con soli due punti, mentre il compagno di squadra Mansell fece meglio, che riesce quindi a salire almeno una volta sul podio. Si passa quindi ai test invernali relativi al campionato del 1984, De Angelis quindi ottiene ottimi tempi, soprattutto al pole Ricard, invece ha avuto difficoltà a Cagli Alami, dove le elevate temperature creano problemi al motore. Questa nuova stagione quindi inizia positivamente per l'italiano, che alla prima gara conquista la pole position e arriva terzo. Nei Gran Premi seguenti ottiene qualche piazzamento e San Marino torna sul podio, nonostante abbia rischiato di non tagliare il traguardo per il serbatoio quasi vuoto. Ottiene un secondo posto, che è stato il suo miglior risultato in una stagione dominata dalle McLaren. Nel Gran Premio degli Stati Uniti c'è un altro podio a Dallas e in estate il pilota rinnova il suo contratto con la scuderia inglese per un altro anno, nonostante ci siano state le voci del suo possibile passaggio alla Renault. Quindi staccato appena di 6 punti dalla vetta dopo il Gran Premio di Gran Bretagna, nel finale di stagione non va oltre due piazzamenti a punti ma è sufficiente quindi per concludere terzo nel campionato piloti dietro a Niki Lauda e ad Alain Prost. Poi si arriva all'85 che inizia molto bene dopo un podio ottenuto la prima gara a quarto posto in Portogallo De Angelis conquista quindi a San Marino la sua seconda e ultima vittoria e dovuta anche alla squalifica combinata ad Alain Prost per una vettura risultata sotto peso di 2 kg rispetto a quello che era il regolamento. L'italiano si trova quindi in testa alla classifica del campionato mondiale risultato che mantiene fino al Gran Premio del Canada dove ha ottenuto la pole position quando viene scalzato però da Michele Alboreto. Nella seconda parte della stagione non va oltre una serie di quinti posti all'ultima gara della stagione viene squalificato per aver preso il via in maniera irregolare dopo aver fatto spegnere il motore all'avvio del giro di ricognizione quindi De Angelis partito decimo invece di retrocedere in fondo al gruppo e alla fine chiude il campionato al quinto posto con 33 punti ottenuti. A settembre poi vince il trofeo Riccardo Paletti per essere riuscito a classificarsi primo tra gli italiani sulla linea di partenza del Gran Premio d'Italia. De Angelis quindi lascia la Lotus alla fine della stagione diciamo nella squadra diventò a un certo punto diventò chiaro in quell'85 che la squadra preferisse specie dopo la morte di Chapman preferisse puntare su Ayrton Senna un giovane molto giovane Ayrton Senna che ancora era agli inizi il giovane brasiliano Ayrton Senna e quindi la squadra si è principalmente concentrata sul brasiliano nell'86 quindi De Angelis passa al team Brabham come sostituto del due volte campione del mondo Nelson Piquet arrivato alla Brabham per la nuova stagione si trova come compagno di squadra Riccardo Patrese con cui fino a quel momento non aveva avuto neanche un buon rapporto ma successivamente tra loro c'è una sincera amicizia senza dubbio la vettura è completamente nuova rispetto a quella che ha lasciato dopo che se n'è andato dalla Lotus è talmente bassa da essere soprannominata Soiola addirittura questa tuttavia si rivela anche poco competitiva e non riesce a riportare la squadra ai livelli dei primi anni 80 e nei primi gran premi non riesce ad andare oltre l'ottavo posto in Brasile ed è costretto a partire ultimo a Monte Carlo ciò nonostante l'italiano riesce lavorando duramente a contribuire agli sviluppi della macchina cercando quindi di migliorarla di renderla sempre migliore di com'era quando era appena arrivato il pilota però è sempre più deluso dalla sua BT55 ritornandola anche poco sicura quindi si arriva ad un momento un po' più particolare della sua vita durante una serie di prove sul circuito Paul Ricarda le Castellet l'alettone posteriore della BT55 si stacca mentre De Angelis procede ad alta velocità facendo purtroppo perdere stabilità il retrotreno della vettura e dopo diversi cappottamenti finisce contro una barriera e prende fuoco ci sono stati diversi piloti tra cui Alan Jones e Nigel Mansell che si fermano a prestare soccorso e anche addirittura Alan Prosta cerca di estrarre il pilota romano dall'abitacolo nonostante le molte fiamme che ci siano però non ci riesce purtroppo dopo diversi minuti i commissari e alcuni meccanici giunti a piedi dai box e privi di tuta innifuga riescono a tirarlo fuori dall'abitacolo e l'elicottero d'emergenza invece arriva oltre 30 minuti più tardi pensate quanto fossero indietro in quanto a sicurezza nella Formula 1 una volta ovviamente questo una volta per fortuna era una sessione di test privati comunque quindi i proprietari del circuito non erano tenuti allo stesso dispiegamento di mezzi di soccorso richiesto per i gran premi i piloti quindi fecero notare alla federazione queste mancanze e in seguito la FIA impose anche per i test i medesimi standard di sicurezza per le gare l'impatto tuttavia non uccise il pilota ma provocò gravi danni alla testa come anche il distacco della colonna vertebrale purtroppo oltre alla frattura della clavicola alcune bruciature quindi De Angelis morì purtroppo a causa della spissia provocata dal fumo dell'incendio essendo rimasto intrappolato per 7 minuti addirittura nell'abitacolo e anche a causa della mancata prontezza dei soccorsi e assenza dei vigili del fuoco quindi naturalmente poi è stato trasportato nell'ospedale di Marsiglia dove morì il giorno successivo oggi quindi per chiunque naturalmente volesse andarlo a trovare il pilota si trova oggi nel cimitero del Verano a Roma per chiunque volesse andare lì magari quindi la morte di De Angelis è stata accolta con grande commozione nella Formula 1 ma anche nel mondo del calcio perché appunto era amico di Diego Armando Maradona che espresse pubblicamente il suo dolore i piloti si sono riuniti pochi giorni dopo in un'assemblea straordinaria minacciarono di non partecipare al Gran Premio del Belgio se non fossero state adottate norme per migliorare la sicurezza addirittura René Arnoux criticò aspramente la FIA e pensate De Angelis fu anche l'ultimo pilota a morire in una macchina di Formula 1 fino alla scomparsa ben otto anni dopo di Roland Ratzenberger e Ayrton Senna nel Gran Premio a Imola nel 94 e questa sicuramente è una storia un po' particolare è una cosa triste quella che ho raccontato di sicuro era un incidente che è successo per determinate ragioni specie poi perché lui ha lasciato la Lotus non si trovava molto d'accordo si trovava affatto d'accordo con Ayrton Senna naturalmente pensava che cambiare squadra potesse essere una bella ventata d'aria fresca sicuramente chiunque nella sua situazione l'avrebbe potuto pensare io sono triste a sapere che sia successo questo ad un pilota oltretutto di gran talento come De Angelis e oltretutto un'altra cosa che voglio precisare e magari non tutti sanno è che De Angelis era anche tifoso della Roma tifoso romanista romano anche perché nella capitale a Roma ci sono due le squadre che si possono tipare quindi perciò parlano del fatto che abbia portato sul suo casco una volta forse ai tempi dei kart la lupa della Roma una cosa molto molto bella almeno per me perché anch'io come lui sono tifoso della Roma quindi di sicuro è una cosa che mi ha fatto molto piacere anche sapere questo e fece anche un'altra intervista in cui dichiarò appunto apertamente di essere tifoso romanista comunque questa è la storia che vi ho raccontato oggi di sicuro De Angelis gran pilota definito lo ripeto principe della formula 1 e è stato anche pianista lo ripeto da una famiglia discendente poi da una famiglia poi benestante miliardario comunque anche un gran pilota sicuramente sicuramente un pilota di autentico talento quindi mandatevi come sempre tanti like commentate iscrivetevi non dividete anche il video con altre persone quindi ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi